lasciata più brutta sta facendo ho attaccato gli occhiali con lo scotch perché si sono rotti i cosi per attaccarli ragazzi la drava nel dite questa è la visione ora stiamo per attraversare il comune italico di trato alla drava per poi entrare nella repubblica austriaca anche detta anche detta esterna questa è la focaccia prescelta e questo è l'ultimo tavolo d'italia questo è l'ultimo riparabici dell'italia zoom testimonianza lì c'è la polizia ci sono i carabinieri ma non si vede metà in italia è buona in italia è dell'euro speed covertina del video e metà in austria è venuto in ostirol potrebbe essere anche un'imprecazione ostirol e noi sta attagginze su questo tavolo due anni fa venne perso i nostri documenti venne appoggiato e lasciato per poi essere ritrovato lo zaino con dentro tutto il muro i documenti le chiavi della macchina sono in questo bar che sono salito al piano di sopra per andare in bagno e sto al piano di sopra che figata bella carina